Lo spirito assoluto è quella specie di specchio in cui ciascuno di noi si riflette per comprendere la realtà e ha tre gradini, arte, religione e filosofia, che corrispondono a tre forme mentali. L'arte e l'intuizione, cioè la conoscenza immediata, non discorsiva della realtà. La religione è rappresentazione, cioè immagini o miti collegati fra loro. La filosofia è il concetto, il pensiero puro. L'arte la definisce la domenica della vita, cioè è quel momento in cui, come la domenica è il giorno in cui ci si riposa dal lavoro e si pensa a se stessi, si ha tempo appunto di guardare al mondo. C'è un'immagine molto bella che spiega quello che Feghel vuol dire, cioè che l'arte è come l'effetto che un ragazzino produce gettando una pietra in uno stagno e contemplando i cerchi che si allargano dal punto in cui la pietra è caduta. Fuori di metafora, questo vuol dire che l'arte è il nostro modo di vedere gli effetti che noi produciamo sul mondo è di goderne, quindi quadri, musica. Feghel era un grande ammiratore, per dire soltanto alcuni aspetti, della pittura olandese. Ed era fiero, avrebbe voluto essere olandese per certi aspetti se non fosse nato in Germania, perché la terra di cui è fatto il sole olandese in gran parte è sottratta al mare, i famosi polder. Si fanno delle dighe, si butta fuori l'acqua dalle dighe, si lascia asciugare il terreno, poi si piantano delle canne che assorbono ancora l'acqua, poi alla fine le canne si bruciano e producono il concime. Quindi l'ideale di Hegel è una terra, una cultura tutta fatta dall'uomo, in cui la natura non conta. Non sarebbe molto apprezzato oggi dagli ecologisti, perché per Hegel la civiltà umana comincia offendendo la natura, per cui i piedi fasciati delle cinesi, le labbra spaccate o con gli anelli di molte tribù africane sono l'inizio della civiltà, perché non si accetta alla natura così com'è. Ma al culmine dell'estetica non c'è tradizionalmente la tragedia o la musica, come in Schopenhauer, c'è lo humor. Lo humor è questo elemento di dissoluzione di un mondo, che per Hegel è rappresentato in letteratura da Stern, Viaggio sentimentale, e in musica da Rossini, di cui Hegel era un vero patito. Per Hegel tutte le grandi civiltà finiscono così, col ridere. Aristofane, con la fine della società greca, Cervantes con la fine della società feudale, Stern e Rossini, con la fine di questo mondo residuo, che porta a una farsa anche in politica. Perché Hegel, la rivoluzione francese, ha tolto formalmente il regime feudale, ha posto la ragione sul trono, ma la dissoluzione dell'epoca fa sì che ci sono tanti partiti, non è una novità quindi, che non riescono a mettersi d'accordo per fare dei governi stabili. Questo è il primo livello. Il secondo livello è la religione. Hegel vede nella religione questo ritorno dell'uomo a se stesso in figure, diremo così oggi, ma senza un carattere negativo, mitiche. Cioè, mythos in greco vuol dire tanto racconto, ma corrisponde al latino mutus, che vuol dire appunto muto, quindi è ciò che si dice, ma anche ciò che non si dice. È mistero, mistero rivelato. C'è la rivelazione nel mondo cristiano, nelle grandi religioni del libro, nella religione mosaica, in quella cristiana e in quella maometana. C'è una rivelazione diretta o indiretta di questi misteri. Perché la religione è un fenomeno enorme? Perché è un fenomeno che diversamente dall'arte della filosofia, che roba per elite, è un fenomeno di massa, è la spiritualità di massa. È il modo, cioè, in cui gli uomini, pregando, guardando dentro se stessi, danno senso alla loro vita. Cioè, lo spirito assoluto è una donazione di senso alla vita. E questo senso viene dato, però, in maniera ancora più completa, più perfetta dalla filosofia, dal pensiero. E la filosofia, come dice Hegel, il proprio tempo appreso nel pensiero. Ma al proprio tempo non significa l'epoca in cui viveva Hegel o quella in cui viviamo oggi, ma al proprio tempo come risultato di processi di lunga durata che non sono finiti e che noi dobbiamo guardare anche rispetto al futuro. Perché Wirklichkeit, realtà effettuale, vuol dire qualcosa che produce degli effetti, ma questi effetti si spostano nel futuro. Il filosofo dice che Hegel non è un profeta, ma il filosofo non è nemmeno quello come i vecchi fotografi che si mettevano il panno nero in testa per fotografare un gruppetto familiare che dicevano statevi fermi. No, la filosofia non è uno stare fermo. Implica delle direzioni di movimento, implica, come appunto diceva Machiavelli, che la verità effettuale della cosa non sia semplicemente il photo finish di un processo che termina.